Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. La cosa che avete visto è il solito gioco russo. La cosa è molto più semplice in realtà. C'è stato l'incontro tra Draghi e Biden. Gli russi hanno individuato una possibilità di differenza nelle posizioni. Siccome fanno politica, fanno dichiarazioni di un tipo o di un altro. Il poliziotto buono e il poliziotto cattivo. Non vedo grandi differenze. Fanno il loro mestiere. Quindi se ci fanno vedere i muscoli per tentare di allargare la distanza tra gli europei e gli Stati Uniti. Dato che io non sono un consigliere di Zelensky e non ho accesso alle informazioni di Zelensky, non mi sogno di dirlo. Possiamo immaginare che Zelensky deciderà politicamente per l'Ucraina quello che lui ritene opportuno. Perché questo l'hanno detto gli americani, l'hanno detto gli europei, l'hanno detto tutti. Anche Zelensky si farà tutti i giorni i suoi calcoli. Perché è il responsabile del suo paese. Cioè non è una pedina. Stiamo parlando del risico. Stiamo parlando di una guerra tra una grande potenza che ha invaso un altro paese. Il legittimo presidente di quel paese, dobbiamo immaginare che ogni sera penserà cosa faccio. Vado avanti a resistere perché la resistenza sta funzionando grazie all'assistenza occidentale. Oppure cedo. Sono in condizione di fare una trattativa da una posizione in cui non consegno a Putin politicamente quello che non riesce a conseguire militarmente. Perché la vera difficoltà qui non è su chi non vuole trovare una via d'uscita dalla guerra e chi invece la vuole trovare. No, è la via d'uscita. E come? Perché se la via d'uscita è, siccome i russi sono in difficoltà militarmente, gli do politicamente quello che non possono prendere. Questa non è una via d'uscita. La via d'uscita appunto è trovare una posizione in cui gli ucraini ritengano di potersi sedere al tavolo della trattativa non nella posizione di cartagine rispetto a Roma. È tutto qui. Mi è chiaro il suo ragionamento però diciamo ho alcuni dubbi. Il primo dubbio è al netto del fatto che Zelensky deve poi rispondere ai suoi uomini non solo ai suoi militari ma anche alla sua popolazione che sta patendo moltissimo. Oggi è il settantottesimo giorno di guerra quindi è evidente che lui dovrà tener conto di questo e quando ci dice più ci sono bucia più ci sono Mariupol e più per noi diventa difficile sederci al tavolo questo è assolutamente comprensibile. Però poi forse c'è anche un altro elemento sul tavolo e cioè c'è il fatto che lei stessa ricordava che noi mandiamo tante armi in particolare gli Stati Uniti. Allora si può pensare davvero che quando sarà il momento della trattativa tutto questo non avrà un peso? Cioè che noi che comunque siamo stati accanto a questa resistenza non abbiamo la possibilità di consigliare Zelensky? Noi intendendolo come è nato. Come è nato nel momento in cui Zelensky dovesse decidere di sedersi a parlare con i russi, cosa che appunto ci deve dire cosa vuol fare, la cosa che possiamo fare è dirgli semplicemente questo. Tu decidi cosa fare, noi ti sopportiamo qualunque cosa tu faccia ed è chiaro che l'obiettivo minimo che Zelensky si porrà sarà una neutralità eventualmente ma non certo una neutralità disarmata e quindi noi dobbiamo dirgli guarda se tu vuoi arrivare ad una trattativa stabilendo tu cosa sei disposto a fare perché se annettessero il Piemonte o la Lombardia... No, per carità è chiaro. E dopodiché noi però ti sosterremo anche nel dopoguerra, questo è chiaro. Poi sulla porra della guerra io per carità voglio solo ricordare a tutti che il confine tra il patto di Varsame e la Nato per 35 anni è stato il fiume Elba, non è stato un territorio enorme neutrale, per cui la psicosi dei russi che si sentono minacciati è follia. La Russia è estremamente stata più insicura durante la guerra fredda come anche noi che mai adesso. Per eterogione si dei fini adesso si ritrova che la Finlandia e la Svezia vogliono entrare nella Nato quindi poi insomma è andata così. Certo Andrea? Come si fa a dire Zelensky decide da solo quando il segretario generale della Nato Stoltenberg 24 ore fa ha detto la Nato non potrà mai accettare l'annessione della Crimea da parte della Russia. Io trovo che sia una dichiarazione totalmente fuori dai limiti e dai confini in cui la Nato dovrebbe... cioè la Nato dice all'Ucraina siamo noi che non accettiamo l'annessione della Crimea. Poi diciamo che Zelensky è indipendente nelle sue decisioni. Ma purgatori la devo correggere guardi perché neanche la Cina... Eh beh sì perché è un dato di fatto cioè. Sì ma io sono pronto a essere corretto. Benissimo. La Cina non ha riconosciuto l'annessione dell'Ucraina, della Crimea. La Cina dal 2014, il miglior alleato di Russia, l'Uzbekistan, il Kazakistan cioè la comunità internazionale non ha mai accettato l'annessione della Crimea e non l'accettere mai. Perché? Perché è un punto fondamentale del diritto internazionale. Quindi Stoltenberg ha detto semplicemente come segretario generale della Nato parlando a nome dell'organizzazione di questi paesi un'ovvietà. Noi non accetteremo mai come la Cina, come l'Uzbekistan, come il Kazakistan l'annessione della Crimea ha commentato di fatto. Allora se adesso le dico questo, lei è ancora convinto che quell'affermazione di segretare benzina sul fuoco o è semplicemente il fatto che spesso la nostra stampa commenta cose senza andare a guardare che cosa sta commentando e non parlo di lei. Questa è la domanda che le faccio. Io quello che penso è che avendo seguito le conferenze stampa di Stoltenberg è quello che dice lui ha sempre e soltanto parlato dell'opzione militare, non gli è mai interessato nulla dell'aspetto politico. Mi scusi professore, basta sentire le sue conferenze stampa, io le ho ascoltate, credo una di averla commentata anche qui. Allora il punto non è che io ce l'ho contato, il punto è che secondo me si sta combattendo una guerra per procura. Io lo dico dal primo giorno e dal primo giorno sono convinto che se ci fosse stata davvero l'intenzione di interrompere questa azione russa, al quarto giorno si erano seduti al tavolo per negoziare cosa che normalmente, e lei questo me lo può insegnare, nelle guerre non accade dopo quattro giorni, poi si è ribaltato tutto e basta sentire le dichiarazioni che vengono fatte da una parte da Zelensky e dall'altra dagli uomini del suo governo per capire che anche all'interno dell'Ucraina c'è un braccio di ferro su che cosa fare. Allora se su questo braccio di ferro noi mettiamo i nostri pesi, i nostri assi e i nostri asset è chiaro che complichiamo la situazione. Io quello che sto dicendo è che secondo me, ma questa è una mia opinione, me la tengo naturalmente, l'Ucraina non sta prendendo una decisione in totale libertà. Allora, facciamo così, siccome devo andare in...